Per cinque inverni ti sei nascosto al mondo. Un tempo eri un grande guerriero. Farò di te di nuovo un guerriero. Come? Col duro addestramento. Rendendo duro ciò che è molle. La mente deve essere padrona del corpo. Maestro, qual è il mio destino? La MI7. Chi vuole sul primo volo per Londra? Solo allora potrei dirti, Renato. Tranquillo. Potete contare su di me. Massa, signore. Non ne saprò molto di golf, Tucker, ma so come si impugna un petto. Queste chiacchiere sono di importanza mondiale. Gli stati canaglia del sud-est asiatico stanno segretamente sviluppando un'arma nucleare. È vitale avere la Cina dalla nostra. English. Datemi 24 ore. Gli stati canaglia di rinascita. Grazie. Ciao, 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 ciao. Grazie per la visione!